Oltre 20.000 visitatori da tutta Italia hanno scelto la provincia di Macerata per trascorrere un weekend all'insegna dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio con il Festival Nazionale della Birra Agricola, giunto alla terza edizione organizzato dalla Copagri Marche. La manifestazione, la prima in Italia e in Europa, si è svolta nell'ambito della quarta festa nazionale di Copagri, agricoltura in festa. L'evento si è aperto il 27 settembre con un convegno sull'eccellenza alimentare al Castello dell'Arancia, coordinato dal giornalista RAI Attilio Romita. Agricoltura in festa mira proprio a far conoscere le tante tipicità alimentari delle aziende agricole ai consumatori che sono sempre più curiosi e desiderosi di mangiare sano e genuino. Per noi è veramente una soddisfazione poter fare una vetrina per tutte le nostre aziende agricole che ogni giorno lavorano e sudano su questi prodotti, su queste genuinità di prodotti che loro fanno. Abbiamo così cominciato quasi per scherzo, un po' visionari e dopo 8-9 anni siamo invece riusciti a ingrandirci e a fare veramente un evento di carattere nazionale. Per noi è veramente un vanto. Poi la Birra Agricola sta veramente avendo appassionato tantissime persone e questo ci fa piacere, soprattutto tantissimi giovani. Quindi c'è anche questa voglia di agricoltura che noi anche in questa occasione vogliamo coltivare. Cerchiamo di far coltivare anche questa voglia di agricoltura, ce n'è veramente bisogno. Una sfida di Copagri quindi è quella anche di coinvolgere guardando al settore agricolo sempre di più i giovani? Sì, bisogna un attimino, la nostra generazione, diciamo così, la nostra età media per quanto riguarda l'impianto è un po' altina. C'è bisogno di un ricambio generazionale, questo non è facile. Però tutte queste iniziative, tutte queste nuove attività, queste diversificazioni può essere d'aiuto per fare anche questo cambio generazionale. Il futuro è questo, l'agricoltura può essere da traino veramente per un nuovo sviluppo economico, con sé, con il turismo, con la cultura, con le tradizioni, con lo sport, con l'artigianato artistico. Secondo me se si cammina insieme con il territorio, secondo me c'è uno sviluppo economico veramente con un potenziale grandissimo. Per anni Copagri Marche si è battuta per far conoscere la birra anche nell'ambito della produzione del settore primario. Grazie a Copagri Marche è stato approvato il decreto ministeriale numero 212 2010 che permette all'azienda agricole e produttrici di Orzo di creare birra considerandola un'attività agricola a tutti gli effetti. Una sfida che è partita proprio dalle marche e che ora è una realtà per tutta l'Italia. Noi continuiamo a puntare sulla birra agricola non tanto perché è la soluzione a tutti i problemi dell'agricoltura ma perché è una conquista che abbiamo fatto noi agricoltori, è partita proprio da qui nelle marche, è diventata un'iniziativa nazionale, da tutta Italia sostanzialmente stanno cercando di aprire birrifici e cercano la nostra collaborazione proprio per intraprendere questa strada quindi è sicuramente un prodotto che può ridare vigore all'agricoltura e avvicinare i giovani quindi sicuramente sì alla birra agricola e una birra di qualità. Si è parlato oggi di eccellenze e di qualità, come riuscire a tutelarle? Sì, ci vuole un impegno da parte di tutti, sicuramente una disponibilità da parte degli agricoltori a mettersi insieme e quindi fare massa ma soprattutto collaborare perché non è che il problema dato solo e esclusivamente dalle istituzioni che non investono poi molto nel settore agricolo se non con i fondi europei ma è anche dato a volte dalla difficoltà degli soggetti a mettersi insieme e quindi fare massa critica e aggredire il mercato. Il 28 e 29 settembre la festa si è spostata al centro congressi di Abbadea di Fiastra con il festival della birra agricola e la mostra a mercato dei prodotti tipici artigianato rurale giunta all'edizione numero 8. Erano presenti 11 birrifici esclusivamente agricoli nonché oltre 60 stand di prodotti agricoli e di artigianato rurale. La manifestazione all'insegna del bel vivere ha proposto anche convegni, incontri, laboratori del gusto e per bambini, momenti enogastronomici, spettacoli e tantissima birra di qualità che nasce dall'orzo e da un curato processo di fermentazione in azienda agricola. La manifestazione gode del patrocinio del Ministero Politica Agricola e Forestali della Comunità Europea della Regione Marche, Provincia di Macerata, Camera di Commercio. Presenti delegazioni provenienti da ogni regione e tutti i vertici nazionali della Copagri a cominciare dal Presidente Franco Verrascina. Noi abbiamo solo da puntare sulla qualità che c'è nel nostro paese, che c'è in questa realtà, che c'è in questa regione. Sulla sicurezza alimentare che i produttori agricoli forniscono su tutti i prodotti e poi sul produrre di più. Dobbiamo uscire dalla logica che ha chiuso l'Europa in questi ultimi anni di contingentare le produzioni. Oggi bisogna essere competitivi, accettare la sfida della competitività e la sfida della competitività a livello mondiale la si accetta non solo sulla qualità e sulla sicurezza ma anche sulla produttività. Agricoltura in festa, tanti motivi per festeggiare o in un momento così difficile siete un po' preoccupati? No, le preoccupazioni ci sono sempre, però dobbiamo uscire dalla disperazione, dalla depressione. Dobbiamo dare un po' di ottimismo a questo paese e gli agricoltori più degli altri lo possono fare. Si è parlato anche di Expo 2015, che opportunità sarà per l'agricoltura, anche per i piccoli agricoltori e per i giovani agricoltori? Saranno opportunità eccezionali se sapremo utilizzarle e sfruttare l'evento dell'Expo perché per sei mesi noi avremo tutto il mondo in Italia. Dobbiamo far sì che questa Expo non sia solo vista come Expo Milano ma che sia Expo Italiana e quindi portare questi venditori, portarli su un nostro territorio, fargli conoscere i nostri prodotti ma insieme al prodotto la storia che sta dietro a quel prodotto, la cultura che sta dietro a quel prodotto perché questo ci differenzia dagli altri paesi. Una domanda sul luogo, ci troviamo nella festa nazionale ma siamo nelle Marche, Tolentino, Urbisaglia, insomma a Barriera di Fiastra, perché? Perché noi abbiamo scelto questa location quattro anni fa, ci è piaciuta, siamo in campagna, siamo in mezzo alla campagna, in un'agricoltura che non è né povera né ricca, è la nostra agricoltura e quindi continueremo a mantenere questa location. E da questi tre giorni quale sfida potrà venire fuori? Quale il messaggio per l'agricoltura e la Confederazione dei produttori agricoli? Dicevo prima un messaggio di ottimismo ma anche del cercare di fare squadra, di fare squadra fra tutti i soggetti che fanno parte della filiera. Io non parlo mai di accorciare la filiera, io dico sempre mettiamo insieme tutti i soggetti della filiera, gli interessi degli uni devono essere gli interessi degli altri. Se riusciamo a capire questo, non pensando che ci andiamo a prendere un qualcosa in più dall'industria, che l'industria possa prendere qualcosa in più da noi, beh, credo che faremo gli interessi del nostro Paese e dei nostri agricoltori.